applausi giocalinga bici altro team alla presentazione gioca in bici ce l'abbiamo? veloci ragazzi ragazze a seguire si preparano cicli fiorin, eccola qua le allievi, gioca in bici noi di solito più italiani in bici, noi invece giocate, va bene, va bene un po' più avanti ragazzi, un po' più avanti, eccole qua, applausi pubblico già per i bici grazie, cicli fiorin, avete visto la maglia bianca del trofeo rosa, una delle detentrici del trofeo queste gare interregionali per accogliere anche concorrenti di altre regioni e incentivare appunto il ciclismo su spada alle ragazze, cicli fiorin, facciamo avanti ragazze, eccola qua, cicli fiorin altro cicli fiorin, cycling team a seguire pedale azzurro rinascita, pedale azzurro rinascita, bello questo nome, bello, ci piace ci piace, guarda avanti ragazze, eccola qua, alla tua squadra da presentare, si tratta di Brutto Gavolfo, applausi pubblico, applausi, Brutto Gavolfo, alla presentazione, vediamo se c'è Brutto Gavolfo, probabilmente, eccola qua, eccola qua Vittoria del team in gara 1 con VVN, vedremo le miele, bella responsabilità per voi, cercare di guagliare VVN guarda avanti guarda che abbiamo lì, guarda che abbiamo lì, guarda che abbiamo lì, si fa la foto mamma, mamma, mamma 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 ti chiamo tu mamma? che mi riconosci ciao Manchester ciao per tornare XPC per torami TSA cooperatori Reggio Emilia con il trofeo noi, eccole qua, guardate il pubblico, l'applauso, applausi i cooperatori un po' più avanti ragazzi, benissimo passiamo a GB Junior Team Piemonte GB Junior Team Piemonte, Piemonte, ce l'abbiamo? ok, passiamo a Bike, quello Bike del Cadorago città ciclistica Bike del Cadorago lo rivedo passiamo a DRAP GORCIOTTI Toscano DRAP GORCIOTTI, eccoli, eccole, non ci sono che non ho ancora mai cattolato ce l'ho accendito eccole qua DRAP GORCIOTTI applausi pubblico passiamo alle marmotte Loreto le marmotte Loreto dai la cappe vediamo che ci sono DRAP GORCIOTTI DRAP GORCIOTTI DRAP GORCIOTTI DRAP GORCIOTTI DRAP GORCIOTTI applausi pubblico applausi sono arrivate le ragazze della Bike del Cadorago Bike del Cadorago aspetta aspetta che prima non c'erano ok allora ascoltiamo i giudici di gara in la coda Bike del Cadorago e la nuova ruota di S chiamiamo Valcar Valcar parole del service DRAP GORCIOTTI qua davanti vai la gara applausi pubblico applausi avete lo spazio per le fotografie qui davanti condividete pubblicate sui vostri profili le vostre pagine pubblicate Flanders Lovla Sportland grazie ragazze applausi pubblico Bazzano Bazzano ASB è il momento di Flanders Lovla Sportland vediamo per cui poi pedale ossolano giusto? pedale ossolano gli rientori applausi pubblico Gruppo sportivo Parmense Alla presentazione il gruppo sportivo Parmense Eccola, Maramanchi, l'applauso del pubblico, le foto San Pietro, andiamo San Pietro, vediamo Non lo vedo, procediamo, il team Federico Eccoli qua, arrivano Team Federico Buonissime le divise delle nostre ragazze Tutte le divise belle colorate Super tecniche E avanti ragazze Ragazze avanti, grazie Il team Federico, l'applauso del pubblico La foto che c'è davanti a voi 15.30 allo start Ressentil Fanelli Ressentil Fanelli 5 concorrenti di questo team Nelle categorie allieve Grazie a tutti La grande obiettivo del pubblico E l'applauso per il suo piede a San Marinese. E' un applauso per il suo piede a San Marino. San Marinese. Un applauso per il suo piede a San Marinese. Un applauso per il suo piede a San Marinese. Un applauso per il suo piede a San Marino. Un applauso per il suo piede a San Marino. Un applauso per il suo piede a San Marino. ossa nesca ehi nesca alla presentazione applausi pubblico ancora qualche squadra como bike e poi dovremo vedere il cadoravo allora como bike ecco alla presentazione applausi pubblico e scudiamo grazie scudiamo il cadoravo via ragazzi facciamo passare allora avanti avanti ragazze facciamo ciao ciao applausi pubblico team serio 15 e 30 lo stanco di cana 2 team serio ragazze ragazze di cana 2 ragazze diversi tutto in serio grazie che abbiamo San Pietro San Pietro non c'è Mangi Ledis second team Mangi Ledis ecco San Pietro ultima camara San Pietro la presentazione delle squadre e ci prepariamo allo start delle allievi per la regionale e provinciale grazie Cepino applausi al pubblico grazie grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.